Un evento che mette insieme tutte le associazioni e gli enti che da anni fanno prevenzione antisismica a Messina. Una tre giorni e non solo per commemorare le vittime del terremoto del 28 december 1908 e per ricordare a tutti la fragilità di un territorio che la tradizione vuole retto dalle spalle di Colapesce. Il via domani alle 19 al Teatro Vittorio Emanuele con la banda della Brigata Meccanizzata Aosta che eseguirà il brano musicale Aita di Giuseppe Verdi con la bacchetta originale del maestro Paolo Antonio direttore dell'ultima rappresentazione del 27 dicembre 1908 Cimeglio custodito dall'Accademia Fila Armonica di Messina seguirà un momento della memoria con riflessioni sulla storia del Teatro Vittorio Emanuele a cura di Giuseppe Ramire e Franz Enrico Bono. Alle 20 nella Basilica Cattedrale, concerto Armonia dello Spirito venerdì 28 alle 5.21 una serie di iniziative, lusi accese nelle case dei messinesi e fischi con sirene di bordo sulle navi in porto e in transito nello stretto con la collaborazione della Capitaneria di Porto, DRFI, Divisione Navigazione e delle Compagnie di Navigazione. Sempre alle 5.21 liturgia del Mattutino a cura delle comunità orientali di Messina Ortodossa e Cattoliche all'edicola votiva di San Nicola dei Greci in via Garibaldi di fronte alla Prefettura mentre alle 9.30 al Gran Camposanto la deposizione di una corona di fiori offerta dalla città di Messina in memoria degli oltre 80.000 morti. Presenti il Sindaco Cateno De Luca, il Prefetto Maria Carmela Librizi e i rappresentanti delle istituzioni, associazioni e strutture operative della protezione civile e delle forze armate di stanza a Messina. Seguirà una visita guidata ai principali monumenti del cimitero monumentale. Diverse le iniziative previste poi in città da Piazza Donfano alla Via della Marina Russa fino al Palacultura. Si chiude la tre giorni a Palazzo Zanca con un convegno che proseguirà sabato mattina al Palacultura e poi ancora uno spettacolo di danza alle 21 al Teatro Vittorio Emanuele. Appuntamenti sono previsti sino al prossimo 9 gennaio con diversi momenti commemorativi e punti informativi spalmati su tutta la città.